Salve a tutti cari amici, Domenico da Dublino, il vostro consulente per l'Espatrio, e spero voi stiate bene. Oggi voglio parlarvi di due storie di successo di Dublino, quindi due storie che sono capitate a due miei studenti che hanno iniziato a fare lavori molto umili e poi hanno avuto una progressione a lavori che sono pagati molto molto bene, va bene? Quindi se siete interessati restate fino alla fine perché vi racconterò queste storie e vi dirò com'è che questa cosa è possibile in Irlanda o magari in altri paesi, è molto più difficile, ok? Quindi iniziamo da queste storie. Allora, cosa hanno in comune questi due ragazzi? Allora, hanno in comune la loro nazionalità, il loro passaporto, perché sono entrambi brasiliani, ok? Che qui a Dublino ce ne sono moltissimi, che studiano inglese. Io li ho conosciuti entrambi a scuola d'inglese perché, come voi sapete, io sono stato insegnante per quasi sette anni. Quindi ho conosciuto migliaia e migliaia di studenti e queste sono solamente due delle molte storie di successo, ve ne potrei raccontare centinaia. Ma queste due sono vicine a me perché questi studenti, insomma, mi hanno chiesto aiuto per fare il loro curriculum, mi hanno chiesto aiuto in svariate cose, come trovare casa. Quindi in pratica siamo diventati amici, siamo usciti parecchie volte a bere. Comunque è gente che è molto, diciamo, vicina a me. Quindi, non vi dirò i nomi, ma vi dirò che cosa hanno fatto. Allora, il primo ragazzo, in pratica, lui è venuto qui con un inglese più o meno intermedio, intermedio-basso, diciamo, forse una-due, con una laurea in tasca. Quindi tutte queste due persone che cosa hanno in comune è anche la laurea, quindi nazionalità e laurea. Quindi tutte e due erano laureati, va bene. Però a differenza di italiani erano laureati umidi, ok? Perché il problema, apro una piccola parentesi, il problema dei nostri laureati è che molte volte pensano di essere l'ultima, diciamo, l'ultima Coca-Cola del deserto. Quindi persone che arrivano qui e pensano di spaccare tutto perché i professori in Italia vi impappinano, diciamo, del nozionismo inutile che a volte, in pratica, vi fa credere che voi siate le persone che capiscono tutto. Quindi vi dicono, voi dopo la laurea spaccherete il mondo. Se magari studiate ingegneria in Italia vi dicono, voi sarete il futuro della nazione, troverete lavoro subito. Che poi magari studiate cose che si facevano 50 anni prima in azienda e non si sono mai fatte. E tanta teoria. Quindi poi quando andate all'atto pratico, in pratica, non sapete fare quasi nuda e non trovate lavoro. Perché nessuno vi vuol formare. Magari in Italia c'è piccole e medie imprese che non hanno né soldi, né voglia magari di formare risorse. Quindi voi una gente già formata e così voi con questo gap non trovate lavoro o vi pagano due centesimi, ok? Quindi invece i brasiliani sono gente, in questo caso, molto umide, che sono venuti qui con una laurentasca ma hanno ricominciato. Quindi il primo ragazzo che cosa faceva? Lavorato, faceva receptionist, quindi lavorava alla reception di un hotel, un ostello. Ok? Lavorava di notte, quindi faceva turni molto massacranti. Lavorava la notte e poi il pomeriggio faceva scuola d'inglese. La mattina dormiva, naturalmente, e il pomeriggio faceva scuola d'inglese. Ha fatto questa vita per molti anni, ok? Per quattro anni. E nel frattempo studiava informatica, perché questo ragazzo ha capito dov'è che sono i soldi qui in Irlanda. Quindi ha fatto un follow the money, come dico sempre io, ok? Quindi un'altra cosa che hanno in comune questi due ragazzi è che hanno studiato aree critiche. Quindi questo ragazzo ha preso una laurea in informatica di quattro anni, ok? Perché qui sono le lauree come vecchio ordinamento italiano, quindi le lauree sono quattro più uno. Lui ha fatto quattro anni. E poi, dopo questi quattro anni di laurea, naturalmente, essendo che l'informatica è un settore molto critico qui in Irlanda, ha trovato subito lavoro in un'impresa e si è fatto le ossa per un anno e mezzo, due anni, mi sembra. E poi ha trovato lavoro per un'agenzia governativa. Quindi adesso questo ragazzo lavora come IT specialist per un'azienda governativa e prende i suoi 80.000 euro all'anno, ok? Quindi 80.000 euro all'anno dopo due anni di esperienza e una laurea, ok ragazzi? Quindi rendiamoci un po' conto di che cifre parliamo, va bene? Perché fa un lavoro che qui serve, un lavoro critico e quindi lui non è che avrà problemi di soldi, ok? C'è molta gente che magari ti inquisita la mente che guadagna poco perché, ragazzi, fate un lavoro che qui non serve, ok? Non serve al paese come informatica, contabilità, finanza e via giù, chi più ne appena mette, insomma, via di lavori utili, ok? Poi la seconda ragazza invece, sempre brasiliana, sempre laureata, è venuta qui con un inglese già buono, aveva un inglese già buono, diciamo era un B2, quindi un intermedio avanzato, ok? Ha fatto la babysitter, quindi anche lei era laureata in Brasile, aveva già, mi sembra, una laurea in ingegneria. Quindi già una laurea molto buona, aveva una triennale, mi sembra, una laurea di base, però nessuna esperienza, ok? Quindi era solamente la lauretta, ma non aveva mai fatto esperienza, quindi aveva difficoltà a introdursi nel mondo del lavoro irlandese. Allora che cosa ha fatto questa ragazza? Ha fatto la babysitter per due anni, ha fatto un lavoro comunque babysitter, è un lavoro che... Sì, è un lavoro buono, però non è pagato moltissimo, ok? E ha studiato ingegneria, quindi ha fatto un master in ingegneria meccanica, qui a Dublino, molto difficile, ok? Vedevo le sue storie su Instagram, tutti questi calcoli, queste cose, e adesso è fatta veramente un mazzo così, perché dormiva poco, lavorava, studiava la notte. Pazzesco, ragazzi, pazzesco, si è fatto un mazzo così. Però grazie a questa laurea, appena si è laureata, ha ricevuto subito un'offerta di lavoro, perché ingegneria è uno degli altri settori critici qui in Irlanda, come la medicina, l'informatica e contabilità, ingegneria anche critico. Adesso lavora come un junior mechanical engineer e guadagna i suoi 50.000 euro, va bene, perché lei comunque in Brasile aveva già fatto un tirocino, aveva un minimo di esperienza, non aveva mai lavorato in un'azienda vera e propria come ingegnere, però laurea, laurea magistrale, ha fatto un tirocino, ha fatto bene un tirocino a riempire due crocette, come si fa in Italia, purtroppo. E qui ha trovato lavoro come ingegnere meccanico, che adesso avrà un'escalation pazzesca, perché parte da 50K, ma questa qui fra dieci anni sarà un senior, prenderà i suoi, non so, 80, 90, 100.000 euro all'anno lordi, che sono tanti soldi, tanti, tanti, tanti soldi, ok? Cifre che in altri paesi, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia, ce li sogniamo, ok? E sono delle cose che mi fanno piacere, quindi avete visto, se voi venite qui con l'attitudine giusta, quindi essere umili, essere pronti al sacrificio, essere, diciamo, resilienti, quindi lavorare, magari lavorare anche la notte, lavorare tanto, risparmiare, pagarvi un corso, follow the money, quindi studiare e specializzarvi in una cosa che qui serve al paese, naturalmente studiando l'inglese, perché tutti questi due studenti hanno fatto scuola di inglese anche, perché io li ho conosciuti lì, quindi hanno fatto minimo due anni di scuola, ok? Lavorando, ok? E mettendo i soldi da parte, cosa che se l'hanno fatto loro non vedo perché non lo possiate fare anche voi, ok? Che avete tutte le capacità, siete europei, quindi potete lavorare 40 ore a settimana, invece loro solamente 20 perché erano extra europei, e adesso hanno preso, uno di loro ha preso il passaporto italiano perché aveva la cittadinanza, discendenza italiana come molti brasiliani, l'altra invece ha preso un visto lavorativo perché facendo di ingegnere ha diritto a questo visto lavorativo perché fa un lavoro critico qui in Irlanda, quindi ecco hanno anche la residenza permanente, adesso posso lavorare a tempo pieno, ma prima potevano lavorare 20 ore a settimana, ma nonostante questo è gente che ce l'ha fatta, quindi ragazzi prendete esempio da queste persone, seguite esempi positivi, non vi concentrate su persone che magari hanno fallito, non sentite queste persone perché se hanno fallito c'è un motivo, va bene? Quindi pensate a questo prima magari di seguire esempi sbagliati. Ragazzi vi ringrazio, vi saluto e alla prossima, ciao a tutti!